Abbiamo realizzato oltre 60 pozzi di prima falda che utilizzano l'acqua non potabile per irrigare i campi, abbiamo realizzato e stiamo realizzando la progettazione di una nuova sede che sarà a Neutral Water Footprint, quindi che utilizzerà tutto il ricircolo delle acque e stiamo riconvertendo tutti i nostri impianti di depurazione proprio in ottica di riutilizzo delle acque non potabili. Per noi il risparmio idrico non è soltanto una cosa che chiediamo ai nostri cittadini, ma è qualcosa che poi ovviamente applichiamo nella nostra quotidianità.